Il MySteam è uno stimolatore palmare che si caratterizza per l'elevato livello della tecnologia Globus e per una dotazione di programmi per le aree sport, fitness, bellezza, rehab e tense. Il MySteam ha un design moderno ed ergonomico. Il display molto grande e definito consente una facile scelta dei programmi e la visualizzazione grafica di tutte le fasi della stimolazione. La parte centrale è occupata da una grande tastiera in gomma che rende semplice e distintiva la regolazione di intensità sui quattro canali. Il Joypad nella parte bassa della macchina permette di navigare in modo rapido e intuitivo all'interno dei menu. La macchina dispone di quattro canali che possono erogare 100 mA di potenza ciascuno. Questo stimolatore ha in dotazione una selezione dei migliori programmi Globus divisi in cinque aree di lavoro, sport, fitness, beauty, rehab e tense con suddivisioni specifiche per uomo e per don. Quest'area contiene tutti i programmi necessari al trattamento dell'ipotrofia post-infortunio e dalle successive fasi del processo riabilitativo fino a raggiungere il completo ripristino della funzionalità neuromuscolare. Nelle terapie antalgiche, medici e fisioterapisti utilizzano comunemente le correnti TENS per il trattamento del dolore acuto e cronico di tipo muscolare oppure articolare. L'applicazione di queste correnti produce il rilascio di endorfine e blocca la propagazione del dolore con un immediato effetto antalgico. L'applicazione degli elettrostimoli infatti genera una contrazione molto potente della muscolatura e produce straordinari effetti allenanti che innalzano rapidamente e in modo duraturo le capacità di prestazione. I programmi speciali permettono di allenare in modo specifico gli atleti di tutte le discipline sportive, dal calcio all'atletica, dallo sci al triatletismo. L'area fitness propone una selezione dei migliori programmi di rassodamento, tonificazione e modellamento per disegnare un corpo armonioso ed equilibrato, così come programmi per aumentare forza e massa muscolare e portare allo sviluppo di un fisico potente e ben definito. Nell'area estetica si possono trovare molti di importanti trattamenti per uomo e donna che vanno dalla lipolisi al massaggio, dal drenaggio all'assodamento del corpo, un insieme bilanciato di programmi per la bellezza di fianchi e gambe, delle braccia, del seno e del viso. I programmi specifici anticellulite in particolare, stimolando i tessuti e attivando la circolazione, aiutano a ridurre i grassi ed aggrediscono la cellulite fino ad eliminare gli inestetismi della pelle. Il risultato sarà un corpo sodo, tonico ed attraente. Grazie al display e al sistema di navigazione studiato dalla Globus, la scelta del programma e la sua effettuazione sono facili e sicure. In questo esempio vi facciamo vedere come si seleziona un programma e si inizia la stimolazione. Il manuale illustra il posizionamento degli elettridi più corretto per ogni gruppo muscolare e per ogni obiettivo. Non appena alziamo l'intensità, a inizio la stimolazione. Da questo momento in poi potremo seguire ogni fase del trattamento sul display dello stimolatore, fase per fase, fino alla fine del programma, con il massimo comfort e in totale sicurezza. Con la funzione SyncroStream si può inalzare l'intensità della corrente contemporaneamente nei quattro canali, fino ad avvicinarsi all'intensità ottimale. Per la regolazione finale della contrazione si procede poi agendo sui singoli canali. Grazie a questa possibilità si può ripetere una fase del programma appena effettuata o, viceversa, si può saltare una fase per passare a quella successiva. È anche possibile modificare il tempo di ciascuna fase in modo personalizzato. Questo elettrostimolatore è dotato di un Personal Trainer interattivo su CD che guida gli utenti con foto, schede e illustrazioni alla ricerca del programma desiderato. Nel menu possiamo vedere le tre aree principali, sport, fitness e rehab. Per ogni disciplina il Personal Trainer suggerisce i programmi più adatti per il periodo di preparazione e di competizione. Se entriamo nel periodo di preparazione del calcio, troviamo una foto che illustra il posizionamento degli elettrodi del programma principale e altre foto che illustrano programmi di stimolazione complementari. C'è poi una tabella che pianifica il lavoro per quattro cicli di tre settimane ciascuno. Non si può sbagliare. Una seconda scheda, poi, illustra gli esercizi di riscaldamento e di stretching per ottenere migliori risultati. Nel periodo di competizione troviamo altri programmi di stimolazione ed una pianificazione diversa delle sedute mirata alla massima espressione della forma sportiva. Nell'area fitness troviamo i programmi per l'uomo, più indirizzati al raggiungimento di massa, tono e definizione muscolare, e i programmi per la donna, più dedicate alla bellezza del corpo. In questo programma di tonificazione e modellamento glutei, infatti, si può vedere chiaramente la posizione degli elettrodi e uno schema di trattamento per due cicli di tre settimane con i programmi più adatti a raggiungere questo obiettivo, giorno per giorno. Anche nel campo rehab, il personal trainer ci indica i programmi più efficaci per il trattamento desiderato. Se soffriamo di dolori cervicali, la scheda ci suggerisce tre programmi specifici ed una loro distribuzione ideare durante la settimana per l'intero ciclo di trattamento. La foto mostra il corretto posizionamento degli elettrodi in modo da effettuare il trattamento con la massima efficacia e sicurezza. Tutte le schede di lavoro possono poi essere stampate per avere una guida sempre a portata di mano.